Buongiorno a tutti gli amici di Altea Channel, sono Umberto Rostello, direttore tecnico di Altea Italia. Oggi siamo nella nostra sede di Rodano e trascorreremo qualche minuto insieme per parlarvi dei servizi di ingegneria clinica erogati da Altea e dei vantaggi nell'avere un singolo interlocutore per la gestione integrata delle apparecchiature biomediche. Altea Italia focalizza la sua attività sulla gestione integrata delle tecnologie medicali, assicurando quindi i propri servizi sul parco apparecchiature medicali nella sua interezza. Le soluzioni che proponiamo sono quelle che caratterizzano tipicamente i servizi integrati di ingegneria clinica e vanno a interessare tutto il ciclo di vita delle tecnologie, dal collaudo alla dismissione, attraverso lo svolgimento delle manutenzioni preventive, correttive straordinarie, delle verifiche di sicurezza elettrica e dei controlli funzionali, così come l'attività di gestione informatizzata dell'inventario e della storia manutentiva dei beni. A queste se ne affiancano altre di particolare rilevanza, come la pianificazione, l'approvvigionamento, la consulenza, la formazione tecnica e clinica. Il controllo delle attività viene reso ancora più puntuale grazie alla piattaforma informatica e ASI, interromente sviluppata da Altea Italia. Concepita per una gestione paperless delle attività, ASI assicura una gestione ottimale dell'intero ciclo di vita degli asset in ambito sanitario, consentendo una corretta e immediata tracciabilità di tutte le attività tecniche per migliorare l'organizzazione, il governo e il controllo dei servizi di ingegneria clinica. I suoi aspetti innovativi e distintivi, già a livello di architettura, garantiscono un'interoperabilità, un'apertura e una multicanalità superiore a quella dei normali applicativi. Seguendo i più moderni standard di progettazione, con EASI si è superato il tradizionale concetto di usabilità, assicurando un grado di confidenza e interazione senza paragone. Altea vanta oltre 800 operatori specializzati, tra ingegneri clinici, tecnici biomedicali e personale amministrativo, capilarmente distribuiti nelle strutture sanitarie sul territorio nazionale. Tutte queste figure professionali, insieme, contribuiscono alla gestione e al controllo di oltre 800.000 apparecchiature biomediche di una pluralità di marchi in più di 200 strutture sanitarie, prestando le loro attività con particolare attenzione alla garanzia delle prestazioni e alla sicurezza di operatori e pazienti. Le attività erogate dal Tea hanno un'anima multi-vendor e fanno dell'indipendenza al loro punto di forza. Ciò ci consente di poter gestire l'intero parco elettromedicale dei singoli clienti e di poter contare su competenze specifiche e su valutazioni tecniche imparziali, che mirano a soddisfare le reali necessità delle strutture sanitarie. Queste ultime possono dunque usufruire di un'offerta completa e indipendente, ma soprattutto dedicarsi all'attura del paziente, con la certezza di disporre di un parco tecnologico efficiente. Vari studi di settore hanno evidenziato che la velocità del progresso tecnologico in sanità è decisamente superiore a quella del rinnovo delle apparecchiature elettromedicali. È evidente dunque che la gestione integrata delle manutenzioni debba essere ora più che mai supportata da ulteriori azioni mirate a garantire il livello prestazionale atteso dagli operatori clinici. Altea, quale primo operatore in Italia a sviluppare e realizzare progetti di partenariato pubblico privato in sanità, si è già dimostrata pronta a rispondere a queste necessità attraverso soluzioni innovative. Per questo motivo sono certo che Altea sarà un partner affidabile per le strutture sanitarie nell'implementazione delle migliori soluzioni di efficientamento e rinnovamento tecnologico. Grazie per essere stati insieme a noi quest'oggi. Un caro saluto a tutti gli amici di Altea Channel da Umberto Rostello. Grazie per essere stati insieme a noi quest'oggi.